allora vi piace eh? porca troia quanto pesi sta bene sta pianta sta male guardate vorrei prendermi tutti i meriti scusate scusate però la chiave di lettura del 2024 è questa anabolic ok quindi ho fatto la defogliazione totale ho fatto eccoci qua ho fatto il videocorso chi lo volesse vedere fa un ordine sul sito poche pugnette defoglio totale a pianta imposto i rami poto stretto poto bene questo è il risultato che alcuni diranno no ma in realtà in realtà questa è la verità ok quindi per chi non è d'accordo io non so più che cazzo raccontarvi questa è la pianta che nel giro di due anni ha decuplicato la vegetazione grazie a me ovviamente perché so mettere mano perché so quando mettere mano però ovviamente grazie al 100% dei miei prodotti questa è la verità perché tanto è inutile bisogna spingere e come quando avete sotto una vergine bisogna spingere se no è inutile non va se no non entra ok quindi bisogna spingere anche con le piante quindi prodotti che funzionano sono qui tra l'altro vi ripeto videocorso questo mese dove vi faccio vedere la defogliazione totale vi spiego due cose importanti faccio vedere la potatura su questa bomba della madonna che tra l'altro è stata anche venduta ovviamente c'è sempre qualcuno che è interessato a portarsi a casa dei pezzi veri da collezione non le solite cagatine che trovate in giro andiamo a vedere ah che bello andiamo a vedere 360 gradi io ragazzi io vi giuro su quel cazzo che volete cioè ma farà mi dappertutto farà mi da li sta facendo veramente dappertutto io non ho non ho idea cioè molti mi scrivono come mai la mia pianta sta male ma porca troia ma vedete che cazzo sto facendo io io non so cosa non so che consiglio darvi se continuate a spendere poco e a fare le cose cioè spendere poco molto 29 euro è il miglior prodotto che c'è sul mercato ok se continuate a fare le robe con 5 euro in tasca continuate a fare come cazzo vi pare io non so che consiglio darvi cioè o mi ascoltate e fate il salto di qualità a lavorare in automatico col mio ecosistema e cazzo e voglia dire no ma però quello non sa coltivare quello quell'altro ma voi vi rendete conto di che cazzo di verde già sta pianta è appena ripartita avevo tolto tutte le foglie sono entrato con le forbici questo risultato passata la settimana 10 giorni fra altri 5 10 giorni tocca potare di nuovo tocca rientrare di nuovo è incazzata come una biscia è una bomba ok e vi ripeto che questa è stata pronotata dal mio discepolo e ha fatto bene fatto bene perché questo ragazzi viene fuori un mostro dalla madonna ovviamente se lo portiamo avanti nella maniera corretta senza fare cazzate con l'impostazione rami che girano cazzate varie questo è un mostro c'è un piede così sotto come me è un bambino è un cazzo è una persona sta pianta ok detto questo andiamo a vedere di nuovo sul mio sito ragazzi le vedete le recensioni della gente che compra sono recensioni verificate non è che mi metto io lì a scrivere più di 2000 recensioni che cazzo sono Gesù Cristo come faccio ok tra l'altro sono recensioni fatte con le foto quindi vedete proprio sta facendo rami dappertutto cioè ma io non so come cazzo fare qui cioè come fate voi ad avere problemi sulle piante quando mi scrivete la pianta non vegeta la pianta inizia poi secca le foglie poi inizia poi fa così poi fa cosà io non so come fare a starci dietro a sti mostri inarrestabili cioè non so veramente come farmi ci vogliono quattro mani adesso ci avrò una ventina di piante di sopra non ci sto capendo più un cazzo ma è così che deve essere deve esplodere tutto perché sono come fate a a tirar fuori qualcosa a fine anno se la pianta gli fa quattro cacci così non è bonsai è merda è merda fumante ok quindi fate quello che vi dico io fidatevi questo semplicemente un video di cioè per farvi vedere cosa sta succedendo su sto cazzo di olmo è vero è un olmo gli olmi lo fanno cioè sparano molto forte rispetto ad altre piante ma un decuplicare tutti gli anni cioè fare per 10 tutti gli anni io in due anni questa la finisco altri due anni finita vado bonsai mostra fine cioè questo è il bonsai per me so che molti mi dicono no ma non è quello va bene panolone viene a letto ok e due clisteri per farla cagare sta gente perché sono lì costipati cioè sono lì che non sanno come fare questa gente qui ragazzi vivono nel medioevo non so che cazzo vogliono venderti vendervi alcuni io ogni tanto mi sento che mi discepoli se tutti i colori è il corso sulla potatura che dura sei anni è il corso sull'annaffiatura che dura 16 anni in questi vent'anni capirai finalmente come s'annaffia un bonsai e vai è il corso sulla stregoneria per capire che la foglia è verde che però non deve essere gialla la clorofilla un altro corso su ragazzi l'abc dovete imparare l'abc cos'è l'abc substrato che deve essere di qualità sulla pianta va a farsi fottere ci sono sempre problemi con cime che deve funzionare luce acqua si cazzo cazzo ci vuole cazzo ci vuole io ho studiato botanica secondo voi ho fatto l'infermiere io so fare clisteri alla gente io faccio le punture infilo gli aghi cerco fa io quello sapevo fare fino a due anni fa certo punto mi sono reso conto che che non ce n'era più per nessuno ho dovuto smettere di fare l'infermiere ok e questa cosa del bonsai mi sta riuscendo non bene di più ok sto prendo il culo tutti tra l'altro stormo anche la questione alla pianta c'ha gli affini e c'ha la cocciniglia e c'ha il ragnetto rosso e c'ha il fungo e c'ha il cazzo e c'ha la figa nel culo c'ha una foglia già questa cazzo di pianta che cazzo c'ha avete mai visto una delle mie piante che c'ha un problema qualcosa no perché perché qui è la chiave di lettura rinforzare se rinforzata bomba il materiale questo va di continuo va di continuo anche se arriva un affide ma butta fuori butta fuori chi se ne accorge chi se ne accorge e in più bisogna usare prodotti preventivi total force ce l'ho uno spruzzino che è una bomba funziona da dio vedete ce lo vedete c'è un insetto chi c'è chi c'è chi c'è qua sotto non c'è nessuno non c'è niente niente non c'è niente il fungo nel substrato e la peronospora e la tracheomicosi e mal bianco lo ioidio e tutte le cavallette a quest'anno quest'anno non so come fare mi capitano tutte a me perché sei un metro sessuale perché fai schifo perché è così perché così perché continui a non ascoltarmi ascoltemi vedrai che tutto cambierà metti via mettete via quei libri dai mettete via i manuali no perché i lavori di novembre i lavori di settembre i lavori di gennaio l'olmo si pota così l'acero si pota cos'ha le impostazioni della conifera dalla tifoglia le altalene la luna verde le maree io non so più come cazzo dirvelo vi state rendendo conto che non avete capito un cazzo in questi anni e che non capito un cazzo questo è il problema nel problema che le piante non funzionano siete voi che non capito un cazzo quindi date retta fate l'ordine iniziate a bomba cambierà tutto ragazzi è quello che faccio io cioè io vi propongo quello che faccio io non è che vi dico ah no però io però c'ho un segreto ma che segreto io non capisco un cazzo di botanica non capisco un cazzo eppure guardate allora cosa volete fare iniziare a fare le cose come vanno fatte o studiare i libri di botanica per sapere che poi il fito ormone andate a complicarvi la vita se questa è la vita la gente si complica la vita cioè la soluzione è semplice no ci deve essere qualcosa di nascosto e invece no il segreto che non ci sono segreti o semplicemente spingere a bomba e continuare avanti per la strada del successo e via seghe mentali e via quei babbioni che alla dentiera che sta lì che continuano la cadama la capa papa 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 il bioculo merda e la pollina col pollo tritato mescolato prendete fatto un macerato con l'ortica l'erba e l'aglio le ciliegie tigliate fate girate lasciate macerare una settimana poi riprendete metteteci il ram e poi girate riprendete un po' di panna montata, girate, mettete in forno, tirate fuori, dai porca madonna, che cazzo c'avete nella testa, eppure c'hanno i follower anche questi qua, allora vi piace complicarvi la vita, perché siete dei poveri magna merda, siete dei magna merda, vi mangiate tutto quello che vi raccontano, io sono neofita, sono all'inizio, non so cosa devo fare, non lo sai, se non lo sai fermati allora, che cazzo fai, ho sentito dire che la luna, lo smosi inversa, retro, rigirata, infilata da dietro, lo smosi, secondo te Claudio Bonsai, l'acqua come deve essere? Bagnata, le punte stanno seccando e il concime è la figa, annaffia tutti i giorni, se hai un vaso piccolo anche due volte al giorno abbondante, estate, ormai estate, cazzo dovete fare con l'acqua, tocca darla, non bisogna analizzarla, bisogna darla l'acqua, porca troia, è così difficile, in natura le piante campano da sole e sta lì due o trecento anni, è possibile che una pianta che invece sta in un vaso, che potete controllarla e regolarla, vi muore dopo una settimana, perché siete deficienti, cioè è quello il problema, non è il pollice verde, no, io però ho fatto il corso base, al club la ciambella è salata, allora la pianta è morta, che cazzo c'entra, non c'entra un cazzo, ok? Dai, via, basta, ok? La fogliazione totale, ragazzi, questo è il risultato, ok, ve lo faccio l'ultima volta, è qui, eh? Ah, è qui, cazzo, sì, così, merde, eh? Andate in giro a dire che no, ma quello è un pallone di verde, è un pallone di verde, metrosessuali, schifosi, maniaci, pervertiti, omofobi, quello forse sono io omofobo, perché in tanti me lo dicono, ok? Questo è il risultato dei miei prodotti, rompetemi il cazzo, ho ragione io, claudiobonsai.com, se volete iniziare a fare Bonsai seriamente, video, corso gratis, dal valore di 97 euro, c'è un regalo, praticamente, che costa di più dei prodotti, cosa aspettate? Spendete 100 euro, spedizione pure gratuita, cosa aspettate? Volete iniziare? Pochi pugnetto, ok? Scrivetemi solo se non siete dei barboni, ok? Ciao a tutti!